Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, la vigilia, Pasqua e Pasquetta. Sparisce la fascia gialla che diventa in automatico arancione, resta il bianco, ma sarà solo la Sardegna restare tinta di questo colore. Sono le novità introdotte dalle misure restrittive anti-covid varate dal governo con un decreto legge e valide dal lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile. Sono state ore di attese di confronti serrati. Questa mattina si è svolto quello tra governo e regioni. Nel primo pomeriggio si è riunito il Consiglio dei Ministri che ha varato il testo. Anche la Liguria quindi, in base ad un valore dell'RT all'1,08 e non solo per l'eliminazione della fascia gialla, torna in arancione. Lo farà da lunedì e sicuramente fino al 6 di aprile, ma in questo arco di tempo, alla luce di un quadro nazionale dell'epidemia in netto peggioramento, non si escludono ulteriori riclassificazioni in peggio. Nelle regioni arancione sarà consentito in ambito comunale o nel raggio di 30 chilometri per i piccoli comuni, un solo spostamento al giorno verso una sola abitazione privata tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti. Per le festività pasquali dunque, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Solo in questi giorni, in quanto festività, sarà concesso di spostarsi all'interno della regione verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno per un massimo di due persone, cosa invece vietata nei giorni in fascia rossa fino al 6 di aprile. In rosso da lunedì ci saranno comunque già 12 zone tra province autonome e regioni, in cui l'RT è superiore all'1,25, 8 le regioni invece in arancione, tra le quali appunto la Liguria. Dal 15 marzo al 6 aprile poi dovranno andare in zona rossa, sempre in base ad un'ordinanza del Ministero della Salute, quei territori nei quali l'incidenza accumulativa settimanale dei contagi sarà superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dall'ultimo monitoraggio disponibile. Nel decreto infine sono stati inseriti anche 290 milioni per i congedi parentali, a partire dal 1 gennaio e quindi retroattivi. Saranno retribuiti al 50% per chi ha figli minori di 14 anni, mentre dai 14 e ai 16 anni non saranno retribuiti. Alternativa al congedo, un bonus babysitter fino a 100 euro a settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell'ordine. Fino ai 16 anni dei figli viene ribadito il diritto allo smart working per i genitori.